Il mando è fantastico! Non solo è la cosa migliore nell'universo di Star Wars negli ultimi trent'anni, ma in più è pieno di armi, armature, bracciali e il casco del Mandalorian, wow! Suppongo che tutti voi abbiate visto lo show, ma se non è così, per ora tutto quello che dovete sapere è che il mando ha delle armi attaccate al braccio. E visto che per l'uscita della prima stagione ho costruito il suo lanciafiamme, per l'uscita della seconda stagione ho deciso di costruire il suo grappling hook. Ci sono modi più efficaci per costruire sia il lanciafiamme che questo, ma l'intera idea di questo progetto è di far entrare tutto nei bracciali. Niente bombole esterne, niente aiuti. La parte che ha richiesto più tempo in questo progetto è stato il sistema per lanciare e recuperare il cavo. C'è un sistema meccanico a molla per lanciare il dardo e un servomotore modificato per recuperare il cavo. In più, visto che si trattava di lanciare un dardo, ho deciso di aggiungere delle luci e un laser, per lanciare anche con visibilità scarsa. In più, visto che si trattava di lanciare le luci e un luci e un luci e un luci e un luci. In più, visto che si trattava di lanciare le luci e un luci. Con la loro nuova spacca auto non vogliono perdersi in frontale. Ti piace da macchia andare in pezzi?